Come voleva si dimostrare? Ce lo aspettavamo. Sappiamo che il Consiglio di Stato non avrebbe creato problemi al governo, purtroppo, e sottolineo purtroppo. Infatti il Consiglio di Stato ha dato ragione a darselor mità, la ILVA in AS e ora questa industria assassina, che oggi si chiama Acciaierie d'Italia, potrà continuare tranquillamente ad inquinare. Infatti la sentenza che si è pronunciata circa la chiusura dell'aria a caldo disposta dal Tar ha di fatto ribaltato la sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato è evidentemente un organo politicizzato e non voleva assolutamente creare problemi allo Stato, dicevo, perché poi lo Stato avrebbe dovuto fare l'ennesimo decreto salva ILVA e ha voluto togliere le castagne dal fuoco. Ormai, diciamocelo, lo Stato italiano ha condannato a morte la città di Taranto senza sé e senza ma, diciamocelo apertamente. E questa pronuncia davvero è incredibile, offende gli ammalati di cancro, offende i morti di cancro, offende le possibilità di sviluppo per il territorio tarantino. Vedete, ci sono dei fattori inquinanti, delle sostanze inquinanti che nell'arco dell'anno superano, proprio come media ponderata, i limiti imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Di questo il Consiglio di Stato se ne è strafregato altamente, ma ci sarebbero da dire tante cose. Vi dico però che giovedì 24 giugno alle ore 16 sarò in Senato presso la sala conferenze caduti di Nasseria del Senato e con il senatore Gianluigi Paragone che ci ha dato questa opportunità insieme all'ingegner Angelo Fasanella e a Vanninini dalla sede istituzionale del Senato, da Palazzo Madama, grideremo il diritto alla vita dei tarantini e contesteremo civilmente e democraticamente questa assurda sentenza. Taranto è stata condannata a morte e noi in una sede istituzionale che rappresenta la Repubblica Italiana urleremo il nostro diritto alla vita, una vita che lo Stato ci sta negando. Quindi ricordiamolo il giovedì 24 in Senato diretta streaming sui canali ufficiali del Senato, un modo per tenere alta l'attenzione e per portare Taranto nelle sedi e nei palazzi che contano.